Vediamo come risolvere una disequazione fratta. Parto da un esempio e poi andremo a formalizzare come si risolva. Il primo passo da fare, vedete qui a fianco, ho già svolto, ho fatto vedere come si sarebbe svolta l'equazione associata a questa disequazione. Vedete, c'è la stessa frazione. Avremmo fatto il campo di esistenza, che sarebbe venuto x diverso da meno un mezzo, che sono i calcoli. Poi, siccome l'essere zero di una frazione non può che dipendere dal numeratore, avremmo posto il numeratore uguale a zero e banalmente x uguale a un mezzo. Siccome il valore escluso è solo meno un mezzo, questo un mezzo sarebbe stata una soluzione accettata. Quindi, per un'equazione, anche laddove appare il denominatore, alla fine ciò che conta il numeratore. Per una disequazione non è così. Allora, qualunque, la prima osservazione, qualunque sia il segno della diseguaglianza, ok, quindi minore, maggiore, minore uguale, maggiore uguale, qua c'è minore uguale, quello che dobbiamo fare è sempre porre il numeratore maggiore di zero e il denominatore maggiore di zero. Con un'unica accortezza, se qui c'è il minore uguale, il numeratore va posto anche uguale a zero, ok? Beh, il denominatore posso porlo uguale a zero? Sarebbe una contraddizione con quello che abbiamo fatto qui per l'equazione, no? Il denominatore può essere mai nullo? Assolutamente no, perché anche per una disequazione, se il denominatore zero non esisterebbe. Nel porre maggiore di zero, ragazzi, ci risparmiamo di fare la condizione di esistenza, non vi pare? Perché nel porre una cosa maggiore di zero, c'è bisogno di vedere se può essere zero? L'ho già esclusa sta opzione. Ecco perché nella disequazione fratta non va formalizzato il campo di esistenza, ok? È chiaro, l'avremmo pure potuto fare, ma avremmo fatto un qualcosa di inutile, di superfluo, perché nel porre il denominatore maggiore di zero, già escludiamo che possa essere zero, va bene? Perché se una cosa è maggiore di zero, ovviamente non è zero. Una cosa importante, qui solitamente o non si mette nulla, o un segno per accompagnare le due cose si mette tipo una parentesi quadra, ok? Come a dire, portiamoci avanti queste due disequazioni. Beh, queste sono, a mio avviso, due disequazioni molto semplici, chiaramente poi andremo a fare un ragionamento con loro. Come vengono svolte? Beh, la prima, due x maggiore o uguale di uno, sviluppiamo pari pari, eh? Qua invece due x maggiore di meno uno, ok? Il passo successivo, fatemelo scrivere a fianco, beh, che sarà nella prima? Devo dividere tutto per due, no? Quindi che avremo x maggiore o uguale di un mezzo. Ci siete? Mettiamolo qua, no? Diviso due, diviso due. Nella seconda, stesso ragionamento, dividiamo pure qua per due, quindi perché qua si semplificano, come era qui. Qua invece che otterremo? x maggiore di meno un mezzo. Va bene? Ma che ce ne facciamo con queste due disequazioni? Perché ricordiamoci, noi siamo partiti da una disequazione fratta. Beh, facciamo un ragionamento. A fratto B, per qua che era minore o uguale di zero. Ci metto il minore, poi con l'uguale vedrete che cosa cambia leggermente. Il rapporto tra due numeri, quando è che è negativo? Rifletteteci. Se so tutte e due positivi, numeratore e denominatore, il rapporto può essere negativo? No. Due sono le situazioni. O più fratto meno, o il contrario, meno fratto più. Non vi pare? Perché se so tutte e due positivi, il rapporto è positivo. Se so tutte e due negativi, quanto vale il rapporto? Vale più. Meno diviso meno fa più. Ok? Quindi per essere minore di zero, o scriviamolo per le altre situazioni, invece fosse stato maggiore di zero, cosa avremmo dovuto prendere? O più diviso più, oppure meno diviso meno. O meno qualcosa. E ora dico solo i segni lì. Pure qua ce l'ho pure, ovviamente. Oppure. siete d'accordo su sta cosa? Ripeto, immaginate non con le x, due numeri. Il rapporto di due numeri, quant'è che è negativo? Se i segni sono discordi. Più fratto meno, meno fratto più. Quant'è che è positivo? Maggiore di zero. Sono concordi i segni, o tutte e due positivi, o tutte e due negativi. Va bene? Quindi questo è lo specchietto che ci servirà per risolvere la nostra diseguazione. Adesso che facciamo? E presentiamo sull'asse reale questi due intervalli che ci sono venuti. Quali sono i valori? C'è meno un mezzo e più un mezzo. O non li dobbiamo mettere nella distanza dovuta. Ci interessa solo l'ordine. Cioè, un mezzo lo mettevo qui. O l'avessi messo qua non cambiava nulla. O c'ho 0,5. ci basta che 0 stia prima di 5. Va bene? Iniziamo dal primo. X maggiore o uguale di un mezzo. Come si rappresenta? Allora, quindi, dopo che ho segnato l'asse reale, questo qui con il verso, se volete mettere R, ma insomma, non è quella sostanza la cosa. andiamo a scendere un po' più giù e dobbiamo mettere maggiore di un mezzo. Va bene? Quindi la linea continua per dire che lì è soddisfatta sta cosa. Beh, prima invece per dire che non è soddisfatta si mette una linea tratteggiata. Qui notate temporaneamente ho messo un pallino vuoto. Il pallino vuoto sta a indicare che quel valore non è compreso. Ma nel nostro caso che abbiamo qui x maggiore o uguale di un mezzo quindi devo mettere il pallino pieno. Ok? Cioè per dire da un mezzo in poi vale stati seguagliati. Vedo questa qui rappresenta questo. Va bene? Andiamo a rappresentare l'altra. Meno x maggiore di meno un mezzo. Come? Quali sono i valori maggiori di meno un mezzo? Beh, da dopo un mezzo, no? Va bene? e prima invece è tratteggiato. Fatemi allungare un po' questo tratteggio. Ci siamo? Adesso il tratteggio pure qua chiariamolo lo faccio in un'altra pagina. Il tratteggio significa negativo. La linea continua significa positivo. Va bene? quindi torniamo alla nostra cosa. Qui che avremo o ricordiamoci che la prima linea questa che ho segnato verde era il numeratore. Vedete da dove siamo partiti. Abbiamo preso il numeratore 2x meno 1 e l'abbiamo posto noi maggiore o quale di zero indipendentemente da quale fosse il segno della disuguaglianza. abbiamo preso il denominatore l'abbiamo posto noi maggiore di zero e qua sottolineo subito sta cosa si pone sempre maggiore di zero sempre qualunque sia tant'è che qui inizialmente c'era vedete minore va bene? Poi l'uguale abbiamo messo l'uguale qui oh che è sto segno qua? non sarà uscito maggiore di zero perché il denominatore non può essere posto uguale a zero adesso vedete la cosa qua è meno meno e più quest'altro invece che cos'è? meno più e più non abbiamo praticamente tre intervalli vedete questo intervallo qui scusate quest'altro e quest'altro ancora nel primo intervallo cioè prima di meno un mezzo quello verde vi ricordo è il numeratore quello rosso è il denominatore meno diviso meno quanto farà? farà più qui invece che c'ho meno diviso più farà meno qui più diviso più farà più va bene? abbiamo quasi finito adesso dobbiamo tornare alla diseguaglianza di partenza e dire io devo salire voi ce l'avete sul quaderno ma la diseguaglianza com'era? minore di zero quindi quale di questi intervalli devo prendere secondo voi? cioè dove c'è il meno? beh a me sembra tra meno un mezzo e più un mezzo no? qua è meno invece se la diseguaglianza di partenza vedete qua oh di cos'è eh fosse stato maggiore o uguale zero avremmo fatto lo stesso identico esercizio ma cosa avremmo preso alla fine? prima di meno un mezzo e dopo un mezzo cioè i tratti in più va bene? ma i bordi per esempio qui lo dobbiamo prendere qua è come fosse meno e meno non vi pare? perché il tratteggio è meno il pallino vuoto oppure come fosse meno quindi qua è più pure lo devo prendere meno un mezzo e no perché là è negativo invece qui vedete come fosse meno diciamo che abbiamo detto qui no qua è il più e sì questo qui va preso invece va bene? quindi che abbiamo come insieme soluzione anzi scriviamo prima l'intervallo tra va bene meno un mezzo come si scrive per dire x compreso tra meno un mezzo e un mezzo si mette la x tra questi più un mezzo questo è l'insieme soluzione va bene? quindi l'intervallo da prendere è da meno un mezzo e un mezzo quindi come saranno le disequazioni fratte immaginate che sopra abbiamo un'espressione e sotto pure e qua c'è minore maggiore c'è una disequaglianza eh oh c'è una ripeti mo metto minore di zero ma qua poteva essere maggiore di zero maggiore uguale di zero minore uguale di zero va bene? quello che ci pare qualunque sia la disequaglianza noi il primo passo sarà porre il numeratore maggiore di zero il denominatore maggiore di zero va bene? con l'unica accortezza che se c'è il maggiore uguale minore uguale apparirà l'uguale anche solo al numeratore non può stare al denominatore perché il denominatore non potrà mai essere zero va bene? lì andiamo a sviluppare come abbiamo fatto prima una volta sviluppati lì andiamo a rappresentare ecco perché mi era più complicato l'ho fatto adesso e non subito perché è chiaro che devo avere un'equazione ma insomma immaginiamo che ci vengono due valori x1 e x2 che ne so questo che fa così quest'altro che fa così ripeto è giusto per quindi qua è come fosse stato più meno meno qua meno meno più a questo punto vado a vedere il segno della diseguaglianza che c'è il minore che avremmo preso pure qui ragazzi beh dov'è che il tratto minore più fratto meno è meno meno fratto meno è più e qua meno fratto più è meno quali tratti avremmo preso qui prima di questi x1 e dopo di x2 invece se ci fosse stato il maggiore immaginiamo che ci fosse stato qua non minore ma maggiore maggiore uguale quale tratto avremmo preso x compreso tra x1 e x2 questi esercizi si fanno tutti alla stessa maniera cioè all'inizio devo ignorare il segno della diseguaglianza all'inizio non ci interessa è come se non ci stesse noi dobbiamo sempre porre sempre il numeratore maggiore o uguale se c'è l'uguale maggiore di zero denominatore sempre strettamente maggiore di zero li svolgiamo andiamo a rappresentarli insieme ok una volta rappresentati torniamo alla diseguaglianza che era maggiore devo prendere più e va più e più insomma e meno e meno era minore devo prendere dove è negativo va bene gli esercizi delle diseguazioni fratte si fanno tutti alla stessa maniera ok non è che se c'è il minore si fa in un modo se c'è il maggiore si fa in un altro modo sempre cambia solo ciò che prendo l'altro che ripeto riflettete su come vi ho fatto fare questo esercizio vedete c'era minore uguale l'ho ignorato l'unica cosa che ho guardato che c'era l'uguale perché l'ho messo qui l'uguale numeratore vedete questo è stato adx questo è stato bdx li abbiamo svolti singolarmente abbiamo trovato i due intervalli soluzioni li abbiamo però rappresentati insieme tenendo conto dell'ordine meno un mezzo sta prima di un mezzo no? uno è negativo uno è positivo addirittura qua il numeratore maggiore o uguale di un mezzo eccolo qui quindi linea continua per dire che era positivo linea trattativa tratteggiata negativa quest'altro x maggiore di meno un mezzo qua pallino vuoto linea continua e prima linea tratteggiata poi siamo andati a vedere che era minore anzi vabbè questo possiamo fare già subito meno diviso meno più meno diviso più e meno più diviso più e più siamo andati a vedere il segno della diseguaglianza che era minore dobbiamo prendere dove è negativo e cioè in questo intervallo qui quindi tra meno un mezzo e un mezzo va bene? e quello è l'insieme soluzione che ci è venuto grazie a tutti grazie a tutti